Ave, ricapitoliamo e archiviamo l'Arnold Classic 2021 mentre vedete la posing routine di Nick Walker che non ha vinto chiaramente il primo come miglior poser, quello l'ha vinto Sergio Oliva Jr. Perché questa non penso si possa definire la posing routine perché fondamentalmente fa le pose obbligatorie, non c'è un filo conduttore per quanto riguarda la routine, però prendiamo il bodybuilding odierno per quello che è, cioè valutare il fisico, non tanto le routine che vengono valutate al mistero e al misteri per l'Arnold Classic. Comunque, una vittoria decisamente convincente, nonostante il commento di Arnold, non so se avete visto lo streaming, cioè il commento di Arnold è qualcosa di imbarazzante. Qui aspetto che qualcuno mi dica, ma Arnold ha vinto sette misteri d'Olimpia, tu cosa hai vinto? Ma Arnold è miliardario e tu bla 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 bla. Sì, cioè non sto dicendo che Arnold sia stato un grande bodybuilder, che non sia miliardario, che non abbia fatto un sacco di film famosi e importanti eccetera eccetera eccetera. Sto dicendo che Arnold è legato al bodybuilding del passato e non segue il bodybuilding, ne sono sicuro al 100%. L'unica persona di cui si ricordava il nome è Sergio Oliva Jr., perché figlio di Sergio Oliva. I commenti erano davvero imbarazzanti quelli di Arnold, non faceva altro che parlare di vacuum, di polpacci, di come si allenava lui, di quello che mangiava lui, di Frank Zayn, Franco Columbo, Steve Reeves, bla 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 bla. In sostanza, Cedric McMillan gli lanciava degli assist e faceva finta di stargli dietro, perché chiaramente Arnold è distaccato dal bodybuilding odierno, si intende. Quindi è un po' come quando si ascolta una persona anziana e gli fai domande, ah sì, e quindi cosa facevi all'epoca? E com'erano le cose ai tuoi tempi? E ai miei tempi era così bla 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 bla. Quindi è inutile che vi incazziate con me o che qualcuno arrivi, come sempre, tra i commenti e a dire Per me questo non è bodybuilding, il bodybuilding è da quello di Arnold e Frank Zayn. Perché conoscono solo Arnold e Frank Zayn. Di sicuro non ti dicono Boyer Coe, Dave Draper, Robbie Robinson. Cioè, Robbie Robinson è una persona di cui non parla mai nessuno quando parla del bodybuilding di 40 anni fa. E questo fa capire quanto la gente non capisca niente di bodybuilding, perché conosce solo Arnold e Frank Zayn. E si è fossilizzata per me il bodybuilding, bla bla bla, perché vede solo queste paginette di Instagram del cavolo che sono distaccate dal bodybuilding. Qui vediamo Cedric McMillan in versione badante, ovviamente. Però potete avere un problema con i fatti, ma se avete un problema con i fatti, il problema non sono i fatti. E qui diciamo che la chiudo. Comunque, riguardiamoci un po' la classifica. Niente da aggiungere. Mi ha stupito, come ha detto, a Kim Williams così in basso. Però vediamoci un po' di comparison. Sono in ordine cronologico. Questo è il primo che hanno fatto, call out. A Sam Mostafa, Mohamed Elhamam, Lee Seung Chung e Max Charles. Questo front-up ball bicep io lo do tranquillamente a Max Charles, che a quanto pare viene penalizzato perché si sospetta che abbia un po' di olio, penso nei deltoidi. Però, secondo me, è un front-up ball bicep convincente. A Sam Mostafa diciamo che lo eliminiamo perché è in condizioni a guest posing. Mi piace molto quello di Lee Seung Chung. Mohamed è così così, è un po' strano, un po' di spanciamento. Non mi piace il fisico, come armonie. Mettiamola così. Poi, se volete guardare solo l'ultimo con l'auto, andate alla fine del video per i primi tre. Front-lap spread. Anche qui mi piace di più Max. Migliora qualcosa Mohamed Elhamam. Il problema di Lee Seung Chung è che ha le braccia troppo dominanti e non ha dei dorsali molto sviluppati, a mio parere. Però ha portato un buon pacchetto. A Sam Mostafa, secondo me, non è commentabile. Davvero, non ha definizione nelle gambe. Troppa acqua. Davvero, una brutta prestazione. Infatti, un decimo posto che... guardate un po' la distensione addominale anche. Un decimo posto che ci sta. Qui spostano Max Charles, perché comunque lui è arrivato ottavo, Mohamed Elhamam settimo. Quindi volevano vedere quelli che avrebbero occupato questa posizione. Anche il side chest mi piace molto di Max Charles. Se non fosse così poco definito, a Sam Mostafa probabilmente vincerebbe questa posa. Mi piace abbastanza anche quello di Lee Seung Chung. Mohamed Elhamam è abbastanza definito e penso che sia arrivato settimo per questo motivo. Poi qualcuno ha detto nei commenti che, penso, Piero Nocerino dice che Max Charles non lo considerano per questione di Sintol. Potrebbe essere che sia questo un motivo per cui costantemente non viene premiato a livello di piazzamenti. Potrebbe essere. Back double bicep. Qui vedete Lee Seung Chung. Non ha abbastanza densità nella schiena, non ha dei bei dorsali, le braccia sono troppo grosse rispetto alla schiena. Buona densità quella di Mohamed Elhamam. Una buona posa anche quella di Max Charles, che forse a caso delle luci si perde qualcosa, però una buona definizione. I primi due, quelli due al centro, sono quelli più definiti, più completi comunque in generale. Passando all'aspera, io sto un po' ignorando a Sam Mostafa, l'ho detto il motivo, perché avrebbe potuto fare sicuramente di più, si avrebbe potuto piazzare di sicuro non ultimo se fosse arrivato più definito. Ma come ho detto in altri video, è peggiorato man mano che gareggiava. Lee Seung Chung non mi piace, ha una buona definizione nei glutei, Max Charles è più largo, una buona definizione anche nella parte inferiore del corpo. Poi, passando all'absentize, vediamo un po' come. Absentize, perché ho detto absentize? Questo è un side tricep, mi sono scordato una posa. Mi piace molto anche qua Max Charles, non è che io sia di parte, mi piace molto come fisico, ricorda un po' un Dexter Jackson. Mi piace molto anche Lee, bellissimo deltoide, bel tricipite, l'addominale più o meno in controllo. Mi piacciono moltissimo gli addominali di Max Charles, anche in questo side tricep. Una buona esecuzione anche quella di Mohamed Elhamam. Cioè, se fosse per me, io avrei fatto passare Max Charles davanti a Mohamed Elhamam. A questo punto può essere che Max non venga premiato per queste questioni qua, di olio, si intende. Potrebbe essere, perché non me lo spiego altrimenti, a me piace molto di più. Begli addominali di Mohamed Elhamam. Quindi lì sono un po' poco in controllo. Mi piace molto Max Charles di nuovo. Non mi piace la variazione mezza Mos Muscular, mezza Absentise di Hassan Mostafa. Comunque, aspettando che facciano la Mos Muscular, per quanto mi riguarda, a me piace più Max Charles in generale. Mohamed Elhamam ha le gambe un po' più grosse. Però mi sembra che il suo fisico non scorra bene a livello di armonia come Max Charles. Anche la Mos Muscular mi piace molto quella di Max Charles. Sia questa a mani giunte che la crab pose, la posa del granchio. Come detto, penso che a questo punto possa essere vero che non lo considerino troppo. Non lo considerino troppo. Perché possa avere del Sintol? Può essere. Perché per me, e io non so nessuno, questo è un mio parere personale ovviamente, meritava di passare davanti a Mohamed Elhamam. Che comunque ha fatto una buona figura. L'avevo detto anche nell'analisi del pre-judging che avrei potuto fare bene. Passando al secondo call out, Sergio Liva Jr., Akeem Williams e Justin Rodriguez. Che vedrà Justin Rodriguez quarto, Akeem quinto e Sergio sesto. Front double bicep, mi piace molto quello di Sergio, anche quello di Justin, soprattutto per i bicipiti, però perde un po' nelle gambe. Akeem, dorsali troppo alti e poca definizione. Questa sarebbe potuto essere la sua gara per piazzarsi molto in alto e magari anche vincere, ma ha peccato in definizione sicuramente. Comunque è una buona posa quella di Sergio Liva, mi piace nonostante i dorsali alti, perché comunque ha un bel fisico, ha una buona definizione. Non mi sarei stupito se avesse superato Akeem Williams. Nell'Aspread non mi piace Justin, troppo spanciato, questa è una posa brutta per lui. Gambe non mi piacciono. Quello che mi piace più è Sergio, nonostante i dorsali alti, che è un problema che condivide con Akeem, è più definito e mi piace molto di più. Poi non si vedono i dorsali di Akeem, sia perché sono alti, sia perché è molto scuro, sia lui che è l'illuminazione e così così. Quindi questa posa la do a Sergio, mi piace molto come posa. Passando al side chest, questa è una posa che do ad Akeem per le gambe, per la densità, per tutto tranne che per la definizione. Mi piace abbastanza anche Justin, nelle pose laterali migliora tanto, soprattutto a livello di gambe, perché sono schiacciate l'una con l'altra. Mi piace abbastanza anche Sergio, però nonostante pecchi di definizione, questa posa è troppo imponente per non darla a Akeem. Chiaramente, sono tutti i miei pareri personali questi, liberi di sentire in maniera civile. Hanno ottenuto anche abbastanza bene le pose, devo dire. Back, double bicep, questa posa secondo me è di Justin Rodriguez, perché ha davvero una schiena stellare. È molto densa, ha una lower back superiore rispetto a entrambi. Non ha grandissime gambe, però si vede la definizione. Lo do per vincitorio, soprattutto per la densità, per la completezza della schiena. Akeem e Sergio non hanno la parte bassa. Akeem è più denso. Sergio è un po' meno denso, però è più definito. Quindi questa è una posa che do abbastanza con convinzione a Justin, che comunque ha fatto davvero bene in quest'ultimo anno e mezzo. È un bodybuilder che è migliorato davvero tanto e si è impegnato. È stato premiato chiaramente l'Aspread, mentre vedete l'assenza di lower di Akeem. Anche questo io lo darei a Justin per gli stessi motivi di prima, in sostanza. Non c'è granché da dire. Sergio, secondo me, è un buon bodybuilder. È migliorato. Deve migliorare col posing, sicuramente. È poco altro. Perché secondo me è stato penalizzato per come ha tenuto le pose durante il pre-judging. L'ho detto anche nell'analisi del pre-judging. È una cosa a cui deve stare un po' attento. Passando al side tricep. Questa è, secondo me, una buona posa per tutti e tre. Mi piace molto come la fa Justin, nonostante non abbia tricipiti. Un bel deltoide. Addominare più o meno in controllo. Mi piace molto come la fa Sergio, anche se è un po' titubante. Mi piace molto anche quella di Akeem. Anche se non è abbastanza definito, però ha un tricipite abbastanza buono. L'addome non è particolarmente in controllo. Forse la darei a Sergio per l'addome, per il controllo, per la completezza generale del fisico. Però, come detto, questa è un'occasione persa per Akeem, secondo me. Davvero un'occasione persa. Passando al abs and thighs. Come detto, non sono un amante di queste variazioni. Mezza most muscular, mezza abs and thighs. Non mi piacciono granché gli addominali di Justin. Che ha un po' di problemi nella parte superiora del corpo. Soprattutto un po' di separazione nel petto. Le gambe non sono il suo punto forte. E se Akeem fosse stato definito, l'avrei data a lui questa posa. Perché davvero dalle gambe superiori. Si chiama abs and thighs, la posa. Però mi sento di darla a Sergio. Per la definizione. E per una... Bella disposizione di addome. Most muscular... Mi piace molto quella di Sergio. Akeem non è definito. Non è abbastanza definito. È un fisico mostruoso che si è un po' perso in questo contest. Mi piace abbastanza anche Justin. Però non ha tricipito. E penso che comunque il suo quarto posto sia meritato. In virtù di una completezza generale. E per la definizione. Che... È quello che l'ha fatto arrivare... Quarto, in sostanza. Poi una most muscular di Sergio. E Arnold diceva questa la fa come il padre. Cioè Arnold... Il commento di Arnold è qualcosa di imbarazzante. Secondo me. Poi niente da discutere su Arnold. Come bodybuilder. Come imprenditore. Bla 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 bla. Cioè... La realtà è di fatti che Arnold non segue il bodybuilding. Arriviamo all'ultimo call out. Che hanno ripetuto altre due volte. Spostando i bodybuilder. Però vedrete solo questo. Nick Walker è il vincitore discusso di questo contest. Più definito di tutti. Gambe un pochettino indietro. Però... A parte questo. Pochissimi punti deboli. Il front of all bicep lo do tranquillamente a lui. A parte un po' di assimetria nel bicipite sinistro. Che è più grosso di quello destro. Cuclo è migliorato molto. Molto completo. Molto simmetrico. Ian è più definito. E nonostante questa non sia una pose eccezionale per lui. Ha una vita più stretta. Un V-taper superiore. Ed è più definito. Penso che Steve abbia perso il secondo posto per definizione. Perché comunque è un bodybuilder più simmetrico di Ian. Questa posa penso che la potrei dare a lui, a Steve, se fosse stato più definito. Anche questo last spread lo do a Ian rispetto a Steve. Lo vince anche su Nick. Questa è una posa che non mi piace di Nick. Ha un tronco troppo allungato rispetto alle gambe. Un po' di spanciamento. Ian mi piace. Tiene l'addome più in controllo rispetto agli altri due. Si allargano meglio i dorsali rispetto a Steve. Che non gli allarga bene. E ha un po' di spanciamento anche Steve. Non oltre ad essere meno definito. Quindi anche questa posa la do a Ian su Steve. Ed è l'unica che gli do anche su Nick Walker. Sei chest. Questa posa è di Nick. Per la completezza generale. Definizione, densità, separazione delle gambe. E qui se la giocano Ian e Steve. Mi piace abbastanza quella di Ian. Anche per la definizione in basso. Però, nonostante sia meno definito, Steve mi sembra più denso, più completo. Più massoso. Mettiamola così. Quindi questa posa la darei a Steve. Rispetto a Ian, si intende. Non rispetto a Nick. Che comunque ha tenuto benissimo le pose. Poi si mastica anche la cingomma in certi punti. Cioè, ha tenuto davvero molto bene le pose. Si può criticare per la vita larga, per le gambe. Un pochettino indietro. Però, cioè, secondo me questa è una vittoria convincente. È inutile parlare di bodybuilding di 30 anni fa. Questo è il bodybuilding odierno. Si può guardare, non si può guardare. Se non vi piace, non guardatelo. Ottima posa anche questa per Nick. Fantastica da capo a piedi. Definizione, separazione e dettagli nei femorali fantastici. Ottima densità muscolare, nonostante sia così giovane nella schiena. Ian perde un po' di simmetria perché ha un dorsale sinistro abbastanza indietro. Però è una buona posa. Invece Steve è un po' troppo poco denso nella schiena. Non si allargano benissimo i dorsali. Quindi, nonostante ciò, questa asimmetria a sinistra di Ian, questa posa la do a lui su Steve. Parlo sempre escludendo Nick, si intende, che secondo me ha perso solo il front last spread. Guardate anche qui un po' di asimmetria di Ian a sinistra. Qui, questa posa potrei darla tranquillamente a Steve su Ian perché è più largo. I vantaggi che aveva prima Ian, a parte la definizione, li ha persi. Steve è più largo di tutti. Non è una posa incredibile per Nick, però comunque valgono sempre i discorsi fatti sulla definizione, sui dettagli, sulla separazione. Perdi un po' nel last spread rispetto al double bicep, però comunque è una posa abbastanza convincente. Non dominante come il back double bicep, però convincente. Side tricep, mi piace molto anche come la esegue qui Nick, buttandosi indietro, bellissimo tricipite, bei deltoidi, addominali in controllo. Begli addominali, anche bella forma, belle gambe. Arnold ha avuto molto da ridire sulle vene, nei polpacci. Mi piace molto Steve, deltoidi, tricipiti, addominali in controllo rispetto a Ian, che comunque è una buona posa anche questa per Ian, nonostante non abbia tricipiti. Però questa la darei a Steve perché la esegue un po' meglio, nonostante la definizione inferiore. E poi ha un tricipite fantastico rispetto a Ian, che non ce l'ha. La posa si chiama comunque side tricep, quindi vorrà dire qualcosa avere i tricipiti o meno. Absentize, entrambi, Steve e Ian, fanno questa variazione che come ho detto non mi piace. Guardate però la definizione, come risalta di Ian, in faccia, nel deltoide, nel braccio, nel gran dentato, nelle gambe, nell'addome. Che si vede poco addome, però si vede rispetto a Ian e questa posa la do tranquillamente a Ian. Mi piace molto anche Nick, l'unico problema è la vita un po' larga, però molto completo, gambe molto definite, seppur leggermente indietro. L'unico problema è la vita un po' larga, però non ci può fare niente. Ha portato il fisico più convincente, più completo in generale. C'è davvero poco da dire. Most muscular, mani giunte per Nick, mani sui fianchi per Steve è più o meno simile a quella di Ian. Molto, molto definita, mi piace molto quella di Ian. Mi piace più di quella di Steve, che è più grosso, però è meno definita. Mi sembra più convincente quella di Ian, perché in virtù della definizione risaltano di più muscoli. Il petto è un po' così così, però vabbè, buona anche quella di Nick. Comunque, dicevo, vittoria sicuramente convincente. Se la gente ha da ridire su Nick, allora che non guarda il bodybuilding. È come dire che non guardate il calcio, perché prima c'è la pele Maradona. È inutile, non guardate il bodybuilding, è inutile fare discorsi di questo tipo, secondo me. Il bodybuilding è questo, o lo si apprezza e se non lo si apprezza non si guarda. Ci aggiorniamo, buona? Buona giornata. Grazie per la visione!